La domenica andate a Cuneo, giusto? Sì, ma adesso di domenica sinceramente, sì sì, domenica siamo a Cuneo, ma non cambia niente, è una partita importante, ma non cambia niente assolutamente, il nostro campionato è quello di affrontare gara dopo gara, quindi finisce una settimana, se ne apre un'altra, c'è un avversario da affrontare, chiunque esso sia c'è da affrontare, c'è da preparare, è una squadra che vuole migliorare, deve fare così, quindi dipendentemente dall'avversario bisogna studiare l'avversario, bisogna lavorare sull'avversario, consapevole di quelle che non sono le nostre potenzialità, ad oggi ripeto, il risultato di oggi ci alza sicuramente l'attenzione, però non è farci perdere quella che è sicurezza, perché ripeto, a mio avviso oggi la prestazione c'è stata.